Grazie. 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 quindi non voglio io lo vedo abbastanza grigio secondo me è difficile o rimaniamo tutti non siamo uniti noi portiamo avanti un discorso di gente di mare gente di mare tutta altri portano avanti un discorso di porto secondo me sono un po' congigliante un marito di scritto alla gente di mare non è scritto alla gente di mare è uno solo l'advento di navigazione il cyberbook è uno solo non c'è un cyberbook che mi dice gente di mare del riporto e ci si potrebbe esibire anche il mio amatore perché ha una parte la riporto fa l'altra quindi anche lui potrebbe essere scritto alla gente di mare del riporto però io lo faccio per professione nel momento in cui io riporto io fico una collezione di riporto e qui diventa un marittimo un lavoratore italiano marittimo a tutti gli freddi e devo rispettare le leggi che mi impone lo Stato quali c'è l'immigrazione se ti cito più e tutte le altre teghe che abbiamo quindi non è una cosa semplice non lo so io vedo gli inglesi sono molto più tranquilli non ho mai sentito che inglese che si lamenta nel suo sistema con il sistema del riporto è entrare in possesso di un certificato AIO vero pratico in Italia è sicuramente impossibile gli inglesi prendono una patente inautica RIA in 18 giorni seguono un percorso formativo che ti porterà ad avere un certificato AIO con una patente inautica ma questo non lo dico io andate su internet poi lasciamo vedere in Italia ci si sono infilate le agenzie eccetera eccetera che danno rilasciano queste patente inautiche che sono patente inautiche invece ci chiedono un percorso formativo assolutamente spaventoso irrealizzabile le agenzie un ragazzo che esce dall'autico non diventerà mai mandato in un concorso e poi dov'è scritto che se io faccio un percorso formativo non posso andare a lavorare dall'altra parte c'è tanto perché lo Stato italiano mi chiede che se io faccio un lavoro domani ho un problema fisico ho un problema di famiglia che mi pone e comunque mi obbliga ad andare a stare più vicino potrei stare anche imbarcato sulla mentolina anche se sono un comandante di un percorso lei mi dirà ma mi misce la figura sì però le prese volte a casa non stivettino e mangio oggi specialmente è molto difficile comunque tornando all'incontro che abbiamo avuto giovedì devo dire che è la prima volta in tanti anni che forse qualcosa forse in tanti c'è stato un impegno da parte non del ministro ma del ministero perché il ministro ha pressato il direttore del trasporti a dare delle date dare delle date e quindi ha dato due date una è la fine del febbraio del 2015 per quanto riguarda il discorso della 121 e un'altra è la fine di marzo del 2015 per quanto riguarda il 3137 dove in associazione penso che vi staremo addosso poi ci sono anche politici che oggettivamente vuol dire che al di là del pensiero politico la signora dice che arriva ci ha dato questi anni ci ha dato veramente un grande supporto quindi spero che ancora continui questo questo rapporto anche con altri perché noi non siamo un'associazione politica mi sembra più di male quindi della politica non sappiamo neanche che cosa sia non ci interessa anzi qui mi riallaccio a un'altra cosa che è molto interessante il marittimo italiano per costituzione ha diritto al voto è vero ma nella realtà il marittimo italiano se non è a casa non vota attenzione non vota e anche questo è una delle cose che dovremmo farci una battaglia perché è una battaglia civica perché c'è una persona lavoratore che paga le tasse che rispetta le leggi che levo in questo stato non ha diritto di votare io quando iniziavo a navigare nel 1976 mi ricordo che i norvecesi gli svedesi per i cani per loro sono un altro pianeta votavano per nostra in Italia abbiamo dato il diritto a voto a delle persone che non sono nate in Italia probabilmente non parlano neanche in Italia e probabilmente non viene frega che anche il binato di quello che succede in Italia però loro votano loro votano noi vittimi no e con questo chiudo scusate grazie grazie grazie